In questo video vedrai il giro di Do sull'Ukulele. Allora, il primo accordo Do lo prendi semplicemente con il mignolo sulla prima corda nel terzo tasto. Il La minore, basta mettere il secondo dito sulla quarta corda nel secondo tasto. Poi il Re minore, aggiungi due dita, vedi, mantieni il secondo dito dove è, quindi questo è Re minore. Il Sol settima, mantieni dove è il primo dito e sposta il secondo e il terzo in questo modo. E abbiamo il Sol settima, quindi Do, La minore, Re minore, Sol settima. Da questa angolazione ovviamente si vede meglio. Mi raccomando, mantieni bene il pollice dietro il manico. Quindi abbiamo Do, il La minore, il Re minore, il Sol settima. Il Do, La minore, Re minore, Sol settima.